...in modo da coprire integralmente... Ma io ho il diritto di prendere un treno e queste sono cose... ...con l'interruzione del servizio nella prima stazione unica... Cioè, ma vi rendete conto... ...in Italia, ringrazio per la cortese attenzione. Cambiate la legge, signora. Io ci sto provando a cambiare la legge. Io mando delle lettere. Sono stata... ...senza legge, non esiste. Guardi, lei mi sta mettendo veramente in una condizione... Sì, è lei che ha fermato il treno. Sì, lei ha fermato il treno. Lei ha fermato il treno. Signora, ma... Che cacchio è, signora? Ma fate pazienza. Allora, allora, me lo puoi dire, me lo puoi dire. No, perché devi avere il coraggio di dirlo. Io devo avere rispetto. Signora, lei senza rispetto per la gente, per lo Stato. Quindi io adesso devo mettermi la mascherina perché così tutto funziona come deve funzionare. Certo. E' questo che volete? Facciamo votazione. Chi per mascherina? Anche io ho il treno da prendere. Chi per mascherina? Facciamo dare mano. Quindi io devo mettere la mascherina? Sì, noi siamo popolo. E tutti per mascherina. Chi per mascherina? Tutti. Maggioranza. E allora, noi siamo popolo. Voi potete obbedire al popolo. Siete un popolo di schiavi però. Sì, va bene. Siete un popolo di schiavi. Siete un popolo di schiavi. Grazie a tutti